Una settimana terribile per le strade venete e padovane che venerdì intorno alle 18 ha registrato un maxitamponamento all'altezza del chilometro 368 dell'A4 poco dopo il casello di Padova Est in direzione Venezia nel comune di Vigonza. 11 veicoli coinvolti, 9 auto e 2 furgoni, miracolati gli occupanti dato che si registra solo una persona leggermente ferita. Un super lavoro per vigili del fuoco, polizia stradale e personale del SUEM che hanno prestato assistenza ai coinvolti e liberato le corsie dell'autostrada nel caos nell'ora di punta degli spostamenti per il rientro a casa e per l'avvio del fine settimana. Un'autostrada che da metà pomeriggio viveva l'inferno all'altezza del casello di San Donà di Piave in direzione di Trieste con sei persone morte e una donna che lotta tra la vita e la morte all'ospedale Caffoncello di Treviso. Lo stesso maledetto tratto di autostrada tra San Donà di Piave e Porto Gruaro costato la vita lunedì a Chiara Moressa, la quarantenne di Brugine che rientrava a casa con il cagnolino appena adottato. Un venerdì nero che intorno alle 14.30 aveva registrato lo scontro tra un'auto snodato di Bus Italia con una cinquantina di passeggeri a bordo tra studenti e pendolari e un'auto lungo via Marconi a Ponte San Nicolò. 11 le persone ferite, la donna alla guida dell'auto in modo grave tutte trasportate negli ospedali di Padova.